L'impianto di biogas, tanto chiacchierato in questi giorni a Loreto a Brutino, non si farà. Il nulla di fatto, già intuito il 18 novembre scorso durante l'assemblea pubblica tenutasi al supercinema, è stato ufficializzato nell'incontro, al quale hanno partecipato componenti del Comitato Difendiamo Loreto e l'amministrazione comunale tutta lo scorso 25 novembre. L'amministrazione ha preso atto, come riporta il comunicato del Comitato, che la filiera agricola è contraria all'idea di realizzare un impianto industriale di biodigestore anaerobico da 62.000 tonnellate di rifiuti misti nel territorio di Loreto a Brutino, risponderà con un secco no anche ad Ambiente S.p.A., che in data 6 novembre aveva inviato al Comune una manifestazione di interesse finalizzata alla individuazione di Arridone e all'allocuazione di un impianto di trattamento anaerobico destinato al recupero della Forso, la frazione organica dei rifiuti solidi urbani. La motivazione è la mancata disposizione da parte del Comune di aree che soddisfano i requisiti richiesti dalla stessa Ambiente S.p.A. Credo sia una tecnologia utile per il ciclo dei rifiuti se fatta in maniera corretta, commenta il sindaco Starinieri. L'amministrazione aveva iniziato l'iter dapprima con gli imprenditori agricoli nella riunione in cui erano presenti solo una decina di persone. Poi l'ascolto successivo della cittadinanza e del Comitato hanno fatto sì che la stessa McEnergy si disimpegnasse da sola nella realizzazione. Dispiace sottolineare però che alla riunione del 25 erano assenti sia la CIA che Coldiretti. Sempre nella riunione del 25 il presidente del neocomitato difendiamo Loretta Prutino Antonella di Tonno ha sottolineato come sia auspicabile per il futuro che produttori e amministrazione comunale collaborino per dei progetti che valorizzano la storica vocazione agricola e culturale di Loretto. A queste parole fanno eco quelle del professor Piero Di Carlo, fisico dell'atmosfera e docente all'Università Gabriele d'Annunzio di Pescara che si è detto pronto ad accompagnare il comune in un percorso virtuoso di transizione energetica. Dunque quello che sembrava diventare un problema difficile da gestire adesso potrebbe aprire e ispirargli di collaborazione tra il comitato e l'amministrazione, volta a impegnarsi in un percorso comune di valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze partendo proprio da un focus sull'emergenza climatica.